Paura nella notte a San Marzano sul Sarno, dove è stata incendiata l'auto del presidente del Consiglio Comunale, Pasquale Alfano. Un boato ha allertato i residenti della palazzina di Via Caduti della Patria, nel centro storico della città. Le fiamme hanno avvolto il SUV, una BMW X3 di colore bianco, distruggendo in breve tempo la vettura. Fortunatamente l'incendio non si è propagato ed è stato poi domato dai vigili del fuoco. Indagano i carabinieri della caserma locale, giunti sul posto. Una volta spento l'incendio, l'auto è stata posta sotto sequestro per le indagini del caso e trasferita presso il deposito giudiziario di San Valentino Torio. Alfano invece è stato sentito dai carabinieri per fare piena luce sull'episodio. Il presidente dell'Assise si è detto tranquillo, augurandosi che si sia trattato di un fatto accidentale. Segnali invece allarmanti sono stati lanciati dalla sindaca Carmela Zottolo, che oltre ad esprimere la solidarietà al presidente dell'Assise, parla di inquietanti coincidenze, verificatesi a distanza ravvicinata. Prima prende fuoco a San Valentino Torio l'area parcheggio dove si trovano i camion dell'azienda della sindaca, poi l'auto del presidente del consiglio comunale viene divorata dalle fiamme. Questa amministrazione comunale continuerà a lavorare per il bene della comunità di San Marzano sul Sarno, ha affermato Zottolo. Mi auguro che non sia nulla di doloso, nulla di preoccupante e confido nella magistratura che farà le opportune indagini e darà le opportune risposte. San Marzano da qualche anno è attraversato da un clima di odio sociale che noi stiamo cercando in qualsiasi modo di stemperare e speriamo che la comunità non si acquisca nel cercare sempre un colpevole, nel cercare una motivazione e nel farsi strumentalizzare verso l'odio e verso il cercare nemici in ogni dove. E migliori non esistono? No, perché è stata sempre una bella famiglia San Marzano, è una bella famiglia. Qualcuno potrebbe inquinare questo clima di serenità che noi come maggioranza dobbiamo riportare come maggioranza politica del paese, e devo dire anche parte dell'opposizione, è una opposizione distensiva, collaborativa e quindi hanno manifestato come quando io ho chiamato immediatamente il Presidente del Consiglio per sapere cosa fosse successo, ho detto che è stato chiamato anche da alcune parti dell'opposizione, poi da tutti gli amici, tutti gli avvocati, i colleghi, anche perché è una persona stimatissima, una brava persona, quindi io credo che non ci sia nulla di doloso. L'incendio è avvenuto all'interno dell'autoparco Canzanelli a San Valentino Torio, fortunatamente i camion della ditta non sono stati toccati, c'è stata solo una grande paura e anche lì sono in corso le indagini, quindi la magistratura deve fare, sono sicura che farà il suo dovere e quindi darà le risposte, ora è ancora in sedi istruttori a tutta la pratica, quindi non si può dire nulla, non sappiamo nulla. La prima volta che mi capita una cosa del genere, sia da un punto di vista professionale, politicamente io è da poco che sono entrato nel mondo della politica, quindi solo due anni, tra l'altro una lista civica e quindi umanamente è un po' sì. Allora io sono stato avvisato alle 4 di mattina da un mio vicino che si è svegliato sentendo uno scoppio, ha visto le fiamme, si è accorto che era la mia macchina e mi ha avvisato, quindi prontamente abbiamo allertato i vigili del fuoco e le forze dell'ordine che devo dire la verità sono stati celere ad intervenire e abbiamo messo in sicurezza le altre auto che erano parcheggiate perché noi le parcheggiamo tutte all'esterno del parco dove abito e quindi fortunatamente i danni sono stati siscoscritti alla mia auto. Io non voglio entrare nel merito, anche se un giornalista lo dovrebbe fare, però rispetto per lei come professionista, persona, Presidente del Consiglio, ma ha avuto delle minacce, ha avuto diciamo qualche perplessità, qualche intimazione? No, io non ho mai avuto né minacce e devo dire la verità neanche screzzi con le persone, tenga presente che io faccio la professione di avvocato e quindi ho a che fare comunque con una miriade di persone e anche insomma di diverse estrazioni, sì, meravigliato perché fino ad ora, anzi in passato ho comunque avuto a che fare pure con diciamo così tra virgolette persone che potevano magari, però non è mai capitato niente e quindi anche discussioni forti ho mai avuto da un punto di vista politico, tenete presente che vi copre un ruolo quindi non operativo ma da Presidente del Consiglio e quindi sì, sono stati carabinieri e devo dire la verità che il comandante dei carabinieri ha subito insomma ha detto che comunque indagheremo a 360 gradi perché pure lui dice meglio che abbiamo la chiarezza se non siamo sicuri sia una cosa dolosa o colposa un incidente che è capitato e quindi però vogliamo essere sicuri quindi prontamente allertata la magistratura e quindi ci saranno indagini e vedremo